Ieri c'è stato un terremoto a Bergamo che ha coinvolto la Lombardia ed è stato percepito anche addirittura a Milano. E anche in casa Ferragnes, ossia da Chiara e da Feles, il terremoto si è assentito, infatti sono scappati loro stessi in strada, nel momento in cui hanno percepito la scossa di terremoto. È stato il famosissimo rapper, attraverso una storia di Instagram, a condividere con i tanti followers quel momento. Una paura provata insieme alla moglie amata. Nella storia FedEx le posta anche un articolo nel web dove si sottolinea che tante persone sono scese e si sono riversate direttamente in strada. E proprio lo stesso FedEx avrebbe detto, sta parlando di noi, siamo noi, riferendosi all'articolo preso nel web. Chiara avrebbe poi detto che paura e sul profilo avrebbe raccontato che sono stati momenti difficili, entrambi sono scappati via, aveva in braccio la Mati, i bambini erano dei nonni per fortuna, non è mai successa una cosa del genere a Milano, la città, capoluogo della regione Lombardia. Insomma, sono stati i primi, ripeto, FedEx e la Chiarragni a sentire questo terremoto che ha coinvolto ieri 18 dicembre 2021 la città di Milano. Bene, complimenti dunque a FedEx e a Chiara per la storia pubblicata di recente. Ciao da Leandro, conosciuto l'italiano e il narratore italiano. Iscrivetevi, commentate, questo video non vuole reddere la sua privacy, né di FedEx né di Chiara, ma solo informare eventuali persone. Ciao!